Nulla di fatto per il referendum abrogativo sulla giustizia, visto che non è stato raggiunto il quorum dei votanti. In tutta Italia ha votato una percentuale di cittadini di poco superiore al 20% degli aventi diritto. Il dato siciliano dell'affluenza alle urne ha rispecchiato la media nazionale, attestandosi intorno al 23% degli aventi diritto. A Caltanissette il dato provinciale si attesta intorno al 16,7%. Nel campoluogo la percentuale di chi si è recato alle urne di poco superiore all'11%, mentre a Gela la media dei votanti si è fermata poco al di sopra del 6%. I dati più alti coincidono con quelli dei sette comuni nei quali i cittadini erano chiamati al voto per le elezioni amministrative, cioè Acquaviva, Butera, Campofranco, Marianopoli, Resultano, Sommatino e Niscemi, dove per quanto riguarda il referendum si sono registrate percentuali di affluenza che vanno dal 45 al 76%. I cinque quesiti del referendum riguardavano l'abrogazione della legge Severino in merito all'incandidabilità o alla decadenza dei politici condannati anche solo con sentenza di primo grado, l'esclusione della reiterazione del reato come elemento per applicare il carcere o gli arresti domiciliari, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, la possibilità di far valutare il lavoro dei magistrati anche ai componenti laici dei consigli giudiziari e l'abrogazione del minimo di 25 firme per consentire a un magistrato di candidarsi al CSM.